L'amministrazione comunale di Siderno ha deciso di predisporre un contributo economico, una tantum, per le famiglie in difficoltà. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha demandato al settore 8 servizi alla persona la predisposizione degli atti necessari all'erogazione di questo contributo economico, una tantum, alle famiglie sidernesse in difficoltà al fine di favorirne l'integrazione sociale. Il tutto sulla base di quanto concesso dalla legge 4 per la realizzazione di un sistema integrato di intervento e servizi sociali e dal regolamento comunale per le erogazioni di contributi economici a persone che versano in condizioni disagiate. Il contributo sarà erogato a tutti i richiedenti che abbiano presentato istanza entro e non oltre il 15 novembre e saranno in possesso di sé in corso di validità, il cui importo sia inferiore ai 3.000 euro annui. L'ammontare del beneficio economico, una tantum, sarà quantificato e distribuito sulla base del numero delle istanze degli aventi diritto, cui saranno interamente destinati i fondi previsti dal capitolo relativo ai contributi a persone disagiate in documentato bisogno economico del bilancio 2017.